Salve a tutti gente, sono ritornato con un nuovo animale di cui parlarvi, un animale assolutamente particolare, lo squalo volpe. Iniziamo subito. È uno squalo come tutti gli altri, anche se non molto normalmente, con una lunghezza che va dai 3 ai 4 metri per un peso di circa 3,5 quintali, ma all'esemplare più lungo raggiungeva i 7,6 metri e pesava oltre i 510 kg. Davvero enorme. È uno squalo davvero singolare e inconfondibile, poiché è molto magro e soprattutto il lobo superiore è molto molto più lungo di quello inferiore, può essere lungo anche più della metà del corpo, anche fino a un metro e mezzo di lunghezza. Data la sua agilità e magrezza, è capace di nuotare a oltre i 40 km orari e spiccare balzi fuori dall'acqua davvero incredibili. Come molti altri squali, predirige altre specie di pesci come prede. Passiamo allo stato di conservazione. Purtroppo lo squalo volpe è considerata come una specie vulnerabile in diminuzione. E ora vedremo perché. Ma passiamo prima alla classificazione scientifica. È uno squalo dell'ordine dei Lamniformi e la famiglia degli Alopidi e il nome scientifico è Alopias vulpinus. Ecco la sua distribuzione. In azzurro potete vedere la sua distribuzione in passato. Le zone in blu è quella dove si trova ancora oggi e dove sta purtroppo diminuendo. È presente pure nel Mediterraneo ma non abbiate paura. Di solito non attacca agli esseri umani. La causa principale non è soltanto l'inquinamento ma sono soprattutto le uccisioni di questo squalo che viene mangiato, soprattutto le pinne. Ma non abbiate paura perché di solito non attacca agli esseri umani. In natura questo squalo può vivere qualche decina di anni e ha di solito predatori da cui guardarsi, spesso orche e altri squali, eccetera. Almeno adesso sapete qualcosa di più anche su quest'altro pezzo di mare dell'oceano. A presto.